ciao bimbe allora visto che anche oggi non possiamo allenarci in palestra ho preparato un altro video in cui appunto facciamo un altro piccolo riscaldamentino che potete fare a casa tranquillamente sempre guardando intorno che non abbiate troppe cose vi trovate un posticino tranquillo e così possiamo fare anche oggi il nostro riscaldamento ok bene allora questa volta partiamo sempre così con la schiena bella dritta e cominciamo via 1 2 3 4 schiena bella dritta spalle giù 6 7 8 9 e 10 oggi lavoriamo con le gambe divaricate quindi bene aperte tiriamo fortissimo le punte schiena dritta le mani vicino al corpo spalle basse punta flex cerchiamo di alzare bene i talloni punta flex punta flex e punta le braccia si alzano le mettiamo in questo modo come se stessimo in verticale ok allora quando dico spingo cerchiamo di alzare più possibile le spalle spingendo verso l'alto come se stessimo spingendo via qualcosa e rilasso le braccia rimangono sempre tese e spingo e rilasso e spingo e rilasso e spingo e rilasso l'ultimo braccia fuori schiena bella dritta dita tiratissime e via 1 2 e spingendo 3 4 schiena dritta schiena strana davanti a tutto posto 7 8 e 1 2 e 3 4 schiene dritte e 7 8 l'ultimo 1 2 3 4 e 7 8 schiene più dritte che possiamo proviamo a staccare i talloni teniamo 10 1 2 dita tiratissime 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Braccia su e schiaccio tutti i secondi. 1, 2, 3, 4, 5, schiaccio bene la testa. 6, 7, 8, 9 e 10. Torno su con le braccia, spingo bene e cambio lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno su, braccia fuori e teniamo le mani in flex, le punte dei piedi sempre tiratissimi. Piccole circonduzioni in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo le braccia e di nuovo su. Da qui scendiamo 5 volte tenendo la schiena più dritta possibile. Non giro così. Vedete come vediamo. La schiena deve stare bella dritta. Braccia su e schiena. 1, e torno. Incastriamo bene le orecchie. 2, e torno. 3, e torno. 4, e torno. L'ultimo. 5, e torno. Molto bene. Ci vediamo. Mettiamo i piedi leggermente aperti, le mani dietro e andiamo a tirare sul sedere e entrare nella posizione nel tavolino. Pronte? E 1, spingo sul sedere e posto. E scendo. E 2, e scendo. E 3, spingo, spingo. E scendo. 1, 2, e 4, e scendo. Faccio l'ultimo. E 5, tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faccio il sedere. Abbiamo i suoi gomiti. Piego la gamba sinistra, stendo la gamba destra. Facciamo. 10 slanci. Pronte? Via. 1, 2, e tiro forte la punta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio subito gamba, stendo la gamba sinistra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop. Tendo entrambe le gambe e giriamo a questo lato. Teniamo il braccio sinistra appoggiato, la mano in questo modo così non perdiamo l'equilibrio. Dobbiamo cercare di essere su una linea perfetta, ok? E facciamo gli slanci laterali. Mi raccomando, non dobbiamo essere molli con tutto il corpo, ma attiviamo bene tutti i muscoli e anche i muscoli delle braccia, ok? Quindi tiriamo forte le punte e via. 1, 2, 3, 4, 5, gamba tesa. 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, cambio gamba, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Sto appoggiando il petto e vado in tiranetta, via. 1, 2, 3, 4, spingo bene e torno. 5, 6, 7, 8, spingo bene la gobba e arrotondo la schiena. Di nuovo. 1, 2, 3, 4, spingo bene e torno. 5, 6, 7 e gobba. Di nuovo via. 1, 2, 3, 4, spingo bene e torno. 5, 6, 7 e gobba. Va qua, tendo le gambe e vado in panca. Mi raccomando, seguire basso al rotondo della schiena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E stop, in giro. Per scioglierli, questa volta facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro ancora. 1, 2, slancio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ultimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non siedo. Appoggio dietro le lani. Scivolo in avanti più che posso con il sedere. E stendo forte le gambe. Punte tiratissime. E facciamo. 1, 2, 3, 4, e flex, e punta. E flex, e punta. E flex, e punta. E scendo. Di nuovo. E 1, 2, 3, 4, stendo fortissimo. E flex, e flex, e punta. Flex, e punta. Gamba per le tese. Flex, punta. E scendo. L'ultimissimo. E 1, 2, 3, 4, e flex, e punta. Flex, punta. Flex, punta. E scendo. Metto le gambe. Metto le gambe in questa posizione, leggermente divaricate. Le braccia dietro. E andiamo a fare gli addominali. Prendi. 10, via. 1. Non serve che c'è il cambio giù. Dove vi rincazarci un pochino. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e stop. Ok. Allora. Abbiamo fatto, anche oggi, un brevissimo riscaldamentino. Come al solito, finita questo riscaldamento, potete fare 5 candele, 5 ponti, e quando avete finito di esercitarvi bene, anche nei ponti, tenendo bene bene le gambe tese, proviamo a mettersi a rilassare la schiena, come un'altra volta, quindi in questa posizione, affeggiando la fronte a terra, e dopo le spaccate, sciogliete bene le gambe. Mi raccomando, provate sempre a fare anche le spaccate, magari un minuto con la gamba destra, un minuto con la gamba sinistra, e un minuto, schiacciatina, o per chi è già bravissimo, anche la frontale, ok? Bene, noi ci vediamo, spero, settimana prossima in palestra, e buon allenamento!